Benvenuti, avventurieri di ogni razza e classe, in un nuovo affascinante viaggio attraverso i meandri del multiverso di Dungeons & Dragons. Oggi ci immergeremo nell'affascinante e spesso temibile mondo dei ciclopi. Prima di immergerci nelle profondità di questo mistero, assicuratevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere neanche un frammento di questo viaggio avvincente. Nel mondo di Dungeons & Dragons, il ciclope è una creatura leggendaria e imponente, ispirata alle figure mitologiche presenti in varie culture. Nei manuali di gioco, il ciclope è spesso descritto come una creatura gigantesca con un singolo occhio al centro della fronte. Questo occhio conferisce al ciclope una vista straordinaria, rendendolo difficile da sorprendere e spuggire alla sua attenzione. Ecco alcune caratteristiche chiave associate ai ciclopi in Dungeons & Dragons. Aspetto fisico Il ciclope è generalmente ritratto come un essere umanoide massiccio, con un'unica grande orbita oculare al posto dei due occhi. La sua statura è notevole, e la sua forza fisica è tipicamente eccezionale. Società Molte volte, i ciclopi sono raffigurati come creature solitarie o appartenenti a tribù isolate. Possono vivere in caverne, montagne o altre regioni remote e selvagge. La loro società è spesso basata sulla forza e sulla gerarchia tribale. Mitologia I ciclopi traggono ispirazione dalla mitologia greca, dove erano conosciuti come esseri giganteschi con un solo occhio, fabbri maestri che lavoravano per gli dèi. In Dungeons & Dragons, questa influenza mitologica può variare a seconda dell'ambientazione della campagna. Abilità I ciclopi sono tipicamente dotati di forza fisica sovraumana e, a volte, di abilità speciali legate al loro singolo occhio. Possono avere capacità come l'ipnotismo o la capacità di individuare invisibilità. La loro abilità in battaglia li rende avversari formidabili per gli avventurieri. Ruolo nelle avventure I ciclopi sono spesso inseriti nelle avventure come guardiani di tesori nascosti, guardiani di territori selvaggi o sfide per i giocatori in cerca di gloria e ricompense. La loro presenza può portare a incontri epici e a sfide strategiche per i personaggi dei giocatori. In generale, l'inclusione di ciclopi nelle storie di Dungeons & Dragons aggiunge un elemento di mito e avventura, fornendo ai giocatori un'opportunità unica di scontrarsi con creature leggendarie e esplorare mondi fantastici. I ciclopi in Dungeons & Dragons presentano diversi punti forti che li rendono creature formidabili e interessanti per le avventure dei giocatori. Ecco alcuni dei loro punti salienti. Forza fisica sovrannaturale I ciclopi sono noti per la loro straordinaria forza fisica. La loro imponente statura e la potenza dei loro attacchi fisici li rendono avversari temibili in combattimento. Questa forza li rende particolarmente adatti a ruoli di guardiani o boss in avventure. Vista eccezionale Grazie al loro singolo occhio al centro della fronte, i ciclopi godono di una vista eccezionale. Sono difficili da sorprendere e hanno una notevole capacità di individuare avventurieri nascosti o in avvicinamento. Potenziali abilità magiche In alcune versioni di Dungeons & Dragons, i ciclopi possono essere dotati di abilità magiche legate al loro occhio. Ciò potrebbe includere capacità di ipnotismo, individuazione di invisibilità o altre abilità speciali che aggiungono un elemento magico al loro repertorio di combattimento. Abilità di lavorazione metalli Influenzati dalla mitologia greca, i ciclopi possono essere raffigurati come abili fabri e lavoratori di metalli. Questa abilità può essere sfruttata nella trama del gioco, ad esempio, con l'avventura alla ricerca di un'arma leggendaria forgiata da un ciclope. Ruolo come custodi di tesori Data la loro forza e la predisposizione per vivere in luoghi remoti e inaccessibili, i ciclopi sono spesso collocati come guardiani di tesori nascosti. La sfida di sconfiggere un ciclope può essere accompagnata dalla ricompensa di un tesoro di inestimabile valore. Variazioni nelle ambientazioni A seconda dell'ambientazione della campagna di gioco, i ciclopi possono assumere diverse forme e ruoli. Possono essere creature selvagge nelle montagne, abitanti di antichi templi o addirittura alleati potenziali in alcune situazioni. L'inclusione dei ciclopi nelle avventure di Dungeons & Dragons aggiunge un elemento di sfida tattica, magia e mito, fornendo ai giocatori un'avventura epica e memorabile contro queste maestose creature. I ciclopi in Dungeons & Dragons, pur essendo creature potenti e temibili, hanno anche dei punti deboli che i giocatori possono sfruttare durante gli incontri. Ecco alcuni dei loro punti deboli. Vulnerabilità alla magia. Nonostante la loro forza fisica, i ciclopi potrebbero essere vulnerabili agli incantesimi magici. Gli incantesimi che influenzano la mente o che sfruttano debolezze specifiche potrebbero risultare particolarmente efficaci contro di loro. Movimento limitato. A causa delle loro dimensioni imponenti, i ciclopi potrebbero avere difficoltà a muoversi agilmente in ambienti stretti o complessi. I giocatori possono sfruttare la loro mobilità superiore per attaccare e ritirarsi strategicamente. Sulla vista, nonostante la loro vista eccezionale, il fatto che abbiano un solo occhio potrebbe renderli più vulnerabili a tattiche che coinvolgono illusioni o confusione visiva. Magie che alterano l'aspetto degli avventurieri potrebbero rendere più difficile per il ciclope identificare il bersaglio giusto. Intelligenza limitata. In alcune interpretazioni di Dungeons & Dragons, i ciclopi potrebbero essere ritratti come creature con un'intelligenza limitata. Questo può essere sfruttato dagli avventurieri attraverso l'inganno o la negoziazione, portando il ciclope a commettere errori strategici. Suscettibilità a attacchi di precisione. Essendo una creatura massiccia con parti del corpo esposte, come l'unico occhio, i ciclopi potrebbero essere più suscettibili agli attacchi mirati o di precisione. Gli avventurieri potrebbero cercare di sfruttare queste vulnerabilità per infliggere danni critici. Debolezze elementali. A seconda dell'ambientazione e delle regole specifiche della campagna, potrebbero esistere ciclopi con debolezze elementali. Ad esempio, un ciclope potrebbe essere vulnerabile a danni causati da attacchi di fulmine o di freddo. Sfruttare queste debolezze può essere cruciale per il successo degli avventurieri durante gli scontri con i ciclopi, e potrebbe portare a incontri più tattici e strategici. Curiosità sui ciclopi in Dungeons & Dragons Origini mitologiche. La presenza del ciclope in Dungeons & Dragons trae ispirazione dalla mitologia greca, dove erano considerati esseri forgiatori e lavoratori di metalli dotati di un singolo occhio. Tesori leggendari. La fama di ciclopi fabbri è legata a molti tesori leggendari. In alcune storie, si dice che abbiano forgiato armi e armature potenti per gli dei stessi. Unico occhio magico. In alcune versioni delle regole di gioco, l'occhio del ciclope potrebbe avere proprietà magiche. Ad esempio, potrebbe essere utilizzato come ingrediente per pozioni o incantesimi di divinazione. Cultura tribale. Nei mondi di D&D, i ciclopi possono appartenere a tribù isolate. Queste tribù spesso seguono tradizioni e rituali unici, rendendo la loro società un punto di interesse per gli studiosi e gli avventurieri curiosi. Strategie per sconfiggere un ciclope. Attacchi coordinati. Dato che i ciclopi sono spesso creature solitarie, approcciare l'incontro con attacchi coordinati e tattiche di gruppo può essere vantaggioso. Sfruttare la diversità delle classi all'interno del gruppo di giocatori per massimizzare l'efficacia dell'attacco. Movimento tattico. Approfittare della limitata mobilità del ciclope in ambienti complessi può essere cruciale. Attrarlo in posizioni svantaggiose o sfruttare coperture naturali può consentire agli avventurieri di attaccare e ritirarsi in modo sicuro. Inganni e illusioni. Dato che il ciclope ha un solo occhio, l'uso di illusioni o abilità che alterano l'aspetto può confonderlo. Creare duplicati illusori o mascherare la vera posizione degli avventurieri può rendere più difficile per il ciclope colpire i bersagli corretti. Sfruttare debolezze elementali. Se la campagna prevede ciclopi con debolezze elementali, gli avventurieri possono prepararsi con attacchi di tipo appropriato. Ad esempio, un ciclope vulnerabile al fuoco può essere sconfitto più efficacemente con incantesimi o armi infiammate. Negoziazione o distrazione. Approcciare il ciclope con diplomazia potrebbe essere una strategia inaspettata. Alcuni ciclopi potrebbero essere suscettibili alla persuasione o alla negoziazione, specialmente se gli avventurieri riescono a presentare argomenti convincenti o vantaggi che superano la volontà di combattere. Attacchi mirati. Sfruttare la vulnerabilità di parti specifiche del corpo, come l'unico occhio, può essere una tattica efficace. Attacchi mirati o colpi critici a queste aree possono infliggere danni maggiori o causare effetti particolari. In conclusione, l'affascinante mondo dei ciclopi ci invita a riflettere sulla potenza della mitologia e sulla capacità umana di dare forma a creature straordinarie. Che siano giganti mitologici o metafore della nostra immaginazione, i ciclopi ci ricordano la bellezza dell'infinita creatività umana che continua a ispirare generazioni. Grazie. Grazie a tutti